Non ti nevo l'amarezza qui dentro, ma credo che da tanti anni che sono nel calcio mi rendo conto che a volte quando meno te l'aspetti succedono anche questi imprevisti, che sono imprevisti che fanno male, ma ripeto, sia io che il mio staff abbiamo fatto veramente un gran lavoro, tra miliardi di difficoltà e partendo anche, insomma abbiamo fatto 22-23 punte, non sono qua, perciò saremo indicesime, saremo in zona playoff, perciò avanti.